Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi parleremo della Orchis Italica. Italica in quanto è un'orchidea tipica italiana, diffusa quasi in tutta la penisola, compreso anche le isole, escluso il nord Italia. Una delle caratteristiche principali di questa splendida orchidea è quella di avere i fiori antropomorfi, cioè a forma di essere umano, a forma di uomo. Inoltre crea dei prati con delle popolazioni veramente, con degli esemplari molto numerosi e rendono questa orchidea molto vistosa anche da lontano. Adesso proverò con qualche immagine ravvicinata a farvi vedere la forma di questi fiori e le varie sfumature e cromie che rendono questi prati del Gargano veramente stupendi. Eccola la nostra Orchis Italica, rappresentata da questo esemplare stupendo, colori veramente molto accesi, in un rosa carico e la rendono veramente stupenda questa pianta. Un soggetto che si distingue un pochino dagli altri in quanto ha i fiori quasi completamente bianchi. Su questa pianta un ragno in agguato in attesa del suo pranzo. Bene, per oggi è tutto e arrivederci alla prossima specie. Grazie.